Ciao ragazzi, oggi siamo qui per un nuovo video, un nuovo video con ovviamente la nuova capigliatura primo video con la nuova capigliatura ragazzi perché mi sono andati a tagliare i capelli anche se non so se in questi giorni avrò tempo di portare nuovi video motivi personali, non posso svelarvi nulla però non aspettatevi moltissimi nuovi video in questi due giorni che verranno, non so per quanto tempo però oggi siamo qui con una nuova storia di frutta marcia la storia che vi sto per raccontare è questa Interspal è una discussione inutile e divertente sì perché ragazzi, innanzitutto domani inizia il campionato cioè domani ricomincia il campionato dopo la sosta delle nazionali e sarà la terza giornata e la partita che vi racconterò in questa storia appunto l'Inter Spal del 2017 e anche allora era una terza giornata di campionato quello 2017-2018 allora l'Inter era la prima Inter di Luciano Spalletti che aveva cominciato il campionato molto bene rifilando tre pere a Fiorentina e Roma e appunto ospitava la neopromossa Spall di San Siro di Leonardo Semplici quella partita l'ho vista nella casa dove sono ora ovvero a casa dei miei nonni sì perché ero andato a pranzare da loro e loro hanno appunto Sky, non mi ricordo dove l'avevamo vista quella partita ma comunque potevamo vederla e appunto quando siamo arrivati stava per iniziare mancava solo praticamente che entrassero in campo le squadre e l'innovasse a Riaste e cose qua e poi sarebbe cominciata la partita c'eravamo solo noi non c'eravamo c'eravamo solo noi non c'erano c'è solo la nostra famiglia e i miei nonni non c'erano altri parenti e quindi la partita comincia e al ventisettesimo non mi ricordo come giocò l'Inter comunque concetto di superiorità ma ritmi non troppo alti perché comunque la spalla era inferiore a noi ma mi ricordo che non avevamo ottenuto dei ritmi elevati per tutta la partita questo è sicuro e al ventisettesimo minuto dopo cinque minuti mi sembra di un incontrollabile di un interminabile controllo al VAR perché era la prima stagione del VAR la prima stagione del VAR l'arbitro decide di assegnare un calcio di rigore all'Inter fallo mi sembra sul tuo Mario proprio al limite dentro l'area pochissimo dentro l'area poco dentro l'area però per fortuna ci assegna un calcio di rigore non punizione dal limite dal dischetto vai Cardi e fa 1-0 esultanza e appunto Inter passa in vantaggio dopo questa attesa lunghissima infatti che noi non eravamo abituati all'epoca vabbè che ero piccolo non seguivo benissimo il calcio però cominciai a seguirlo seriamente lo seguivo seriamente già da un paio di stagioni quindi comunque insomma non eravamo abituati al VAR perché era stata appunto la prima stagione però 1-0 per l'Inter Riccardi su rigore e poi mi ricordo una cosa tipo il finale del suo finale primo tempo da Albert nuovo terzino arrivato quell'anno dal Nizza che a me piaceva a me piaceva pensate un po' te cioè dato che sapeva che stava per scadere il primo tempo si mette a palleggiare a palleggiare giuro si era messo a palleggiare una cosa che me la ricordo benissimo e si è messo a palleggiare li rubano palla io dico ma che fai così rubano palla e la spalva vicino al pareggio cioè quindi errore proprio da da matita blu la terza categoria però primo tempo che sono questo che ho in vantaggio nell'intervallo è qui che interviene la la seconda parte della storia ovvero la discussione inutile mio nonno e mia nonna che sono soliti litigare molto spesso a un certo punto mia sorella che è più piccola di me tira fuori un discorso su su un cartone lo straordinario mondo di Gumball e a un certo punto mio nonno si chiede ma cosa vorrà dire Gumball Gainball una roba del genere pronunciare c'era anche mia nonna erano seduti al tavolo perché stavamo mangiando non mi ricordo cosa credo la cassola la cassola no la cassola no a settembre non si mangiava la cassola comunque qualcosa di carne rosto queste cose qui si mettono a un certo punto dicono Gainball Game mia nonna addirittura dice Gamba Palla Gamba Game e mio nonno comincia a dire ma no significa gomma Gommaball e quella dice e allora perché sarebbe un gatto e non lo so cioè si scatena una discussione un litigio per una cosa inutile proprio partito tutto da lo straordinario mondo di Gumball proprio il personaggio di Gainball e uno dice ma cazzo ma non vuol dire questo significa e mia nonna ma dai Alberto ma dai Alberto non vuol dire questo eccetera e si quindi dura praticamente tutto l'intervallo questa discussione mio papà a un certo punto interviene dice basta non è serio vanno a cercare su Google traduttore e finisce lì nella discussione proprio quasi diverte comica perché è proprio partito tutto da Gainball però questo fa capire per cosa cominciano a litigare i miei nonni ecco e dopo questa litigata comincia il secondo tempo secondo tempo che non si sblocca occasione da una parte e dall'altra secondo tempo che comunque non si sblocca fino all'ottantasettesimo quando Perisic scusate con un gol bellissimo un gol bellissimo tiro sinistro al volo dal limite dell'area sotto l'incrocio fa 2-0 io ho detto oh finalmente è fatta esultanza eccetera e la partita che dunque finisce 2-0 per l'Inter ho detto l'Inter non mi ricordo come aveva giocato ma comunque non aveva tenuto dei ritmi altissimi con una spalla che comunque non aveva sfigurato perché quell'anno lì fece bene anche l'anno dopo poi ci ricordiamo tutti due anni fa e retrocessa facendo un campionato a dire poco brutto e quindi l'Inter che vince la partita tre vittorie su tre era arrivata perché a quell'anno appunto per Gerone d'andata classico partite positive primi in classifica eccetera poi crollo di dicembre gennaio eccetera e però alla fine siamo comunque arrivati i quarti siamo tornati in Champions quella stagione lì proprio era la prima Inter di Spalletti e mi ricordo che quando siamo tornati a casa all'arosto intanto era buono complimenti a mia nonna perché l'arosto era buono e mi ricordo che quando siamo tornati a casa eravamo a piedi ho visto un cane di un recinto di una casa continuare ad abbaiare quelli lì era abbastanza grosso ma in pratica continuava ogni volta che abbaiava girava intorno proprio giro intorno giro intorno una cosa stranissima c'è proprio un filmato da mandare a Paperissima Sprint la cosa extra storia che mi ricordo e nulla la giornata finisce qui così anche la storia non aspettatevi troppi nuovi video in questi giorni ve l'ho detto vi ho avvisato perché è meglio prevenire che curare quindi ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti